Ovviamente la prima partita, la maggior parte di noi forse non ha fatto il play-out, ci sono pochi che hanno fatto il play-out, quindi non sai cosa va incontro, la tensione, la paura c'è, poi magari come è andata anche la partita, perché abbiamo avuto quattro occasioni nitide per far gol, non lo fai, invece lo prendi, la paura entra, quindi ci sta anche, però adesso che è finita, sappiamo com'è andata, sappiamo quello che già troviamo, ci aspettiamo da Lumezzane e non cambia nulla, perché per noi è una finalissima, sappiamo, ripeto, quello che ci aspetta, dobbiamo essere più tranquilli, più calmi, perché paura può far solo che male, la giusta tensione ci sta, ci sta perché quella fa bene secondo me, però quella giusta non troppo, né di meno. Una bolgia, io penso, tipo, per fare un esempio, tipo, no, però un esempio caldo proprio, tipo i play-off dell'Aquila, no, tipo i play-off dell'Aquila, quel calore là che è bello, importante per noi, che comunque il pubblico ci sostiene è importantissimo. Per me, come è andata tutto quest'anno, è come una vittoria campionata, perché ne abbiamo passate tante, quindi ancora di più noi dobbiamo essere incazzati proprio per tutto quello che abbiamo subito, per tutto quello che ci è successo quest'anno, quindi penso tre volte più di una vittoria campionata per me, perché dopo tante di quelle cose che subisci durante l'anno, ovviamente arrivi pieno, quindi secondo me è meglio di una vittoria campionata a questo punto.